un saluto a tutti gamers e benvenuti o bentornati se non siete mai venuti prima sul tubo di french 11 oggi con fifa 15 e dopo il video diciamo così dell'unboxing dell'ultima dell'ultimate team edition e vediamo oggi un breve video sostanzialmente per farvi vedere tutto quello che è il menu di fifa 15 quindi qui siamo nel lab principale quindi allora continua la carriera ultimate team una delle cose più ricercate in assoluto per tutti i giocatori online impallinati con foot ma vedrete che faremo una serie poi anche su questo poi abbiamo appunto qui calcio d'inizio quindi per le partite singole e nuova carriera anche qui come sempre nuova carriera o giocatore o allenatore non c'è quest'anno la versione giocatore allenatore insieme da questa parte invece abbiamo il catalogo quindi il catalogo è accessibile anche da questa schermata e le notizie o notifiche football club se avete altri giocatori altri utenti giocatori collegati quindi insieme a voi e access quindi con sconti schemi della squadra scusate un rutto e poi cosa abbiamo qui schemi squadra ecco all'inizio i migliori giocatori della settimana e accedi subito per poterli acquistare in gioca invece abbiamo il calcio d'inizio appunto di nuovo come prima quindi sostanzialmente in principale vi riprende anche un pochettino le ultime cose che avete fatto in gioca appunto calcio d'inizio continuare le carriere carica carriera nuova carriera le prove abilità arena dell'allenamento e poi potete scegliere nell'arena il vostro giocatore preferito quando siete in arena o il vostro portiere momenti club della settimana con sfide partite settimanali di altro profilo restare connesso al mondo del calcio calciatori appunto più in forma e le squadre più in forma sezione dei tornei con un nuovo torneo torneo personalizzato oppure carica uno dei tornei ultimate team e poi la versione la modalità online sostanzialmente con le stagioni le stagioni co op quindi che potete giocare insieme a vostri amici quindi amici online su console diverse possono fare stagioni in co op amichevoli invece online quindi contro i vostri amici collegati da più console e il famoso pro club quindi con l'11 contro 11 con il vostro giocatore creato o già esistente match day live e questa è una delle novità quindi qua abbiamo un hub sostanzialmente con le notizie provenienti dal mondo del calcio quindi powered by goal vedete c'è anche scritto grandissimo totti e potete leggere di tutto e di più se sentite un cucù è il mio telefono e si può leggere anche l'articolo quindi andare effettivamente a vedere che cosa ci dice la notizia i migliori marcatori sempre riguardanti la vostra squadra preferita e insomma li prossimi incontri della vostra squadra preferita la classifica offerta dalla serie a team quest'anno partner con e sports e qui invece vi cancella ecco scusate e invece qui appunto c'è giocate la partita successiva della vostra squadra preferita con il match day e quindi il famoso match day bellissimo lassù in alto serie a team con tutti gli sistemini delle varie squadre personalizza insomma per le varie impostazioni su tutto quello che cazzo volete impostazioni aiuto modifiche squadre schemi potete fare giocatori nuovi ovviamente da poter poi utilizzare vari profili tutto il resto un'altra delle novità lassù in alto a destra premendo rs quindi lab dell'online quest'anno abbiamo le mie attività dove sono tutte le vostre attività e potete anche condividerle quindi appunto molto più social rispetto al passato qui invece avete le notizie degli altri anche dei vostri altri amici e potete addirittura mettere mi piace commentare eccetera le notifiche quindi notifiche dal team di fifa o altre notifiche e il catalogo quindi il catalogo è anche accessibilissimo da qui e come vedete appunto potete andare a comprare con i vostri punti esperienza sostanzialmente tutto ciò che riguarda i vostri livelli di abilità signori quindi sostanzialmente con questo era appunto questo qui era un brevissimo video per farvi capire che cosa troverete in fifa 15 io vi consiglio ovviamente di guardare anche l'unboxing della ultimate team edition che permette di avere 40 pacchetti oro foot uno a settimana e cinque partite con messi in prestito con questo sostanzialmente signori è tutto io vi saluto e mi raccomando continuate a seguirci perché da ora in avanti i video sul fifa 15 saranno davvero tanti ciao